Saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi abbiamo il piacere di presentare un saggio pubblicato da pochissimo dall'Associazione Centro Studi Antoniani, dal titolo Come frati minori vanno per via. Antonio di Padova, i minori e le strade nel Friuli Medievale, di Andrea Tilatti, che abbiamo il piacere di avere il nostro ospite e che ci parla di questa interessante pubblicazione. Io lascio subito la parola a lei, professor Tilatti. Grazie, grazie per l'invito. Dunque, come prima indicazione, si può dire che come quasi tutte le opere di storia, storiografiche, c'è una motivazione immediata che le spinge verso la curiosità di chi studia e di chi scrive. In questo caso, l'occasione iniziale per avviare uno studio su Antonio, le presenze dei frati minori in Friuli e anche la mobilità dei frati in Friuli è stato l'invito che ci è pervenuto dal comune di Gemona del Friuli per progettare una parte del cammino di Sant'Antonio già esistente in Italia che però si voleva allungare, diciamo, da Padova, che costituisce comunque il centro di propulsione, anche di arrivo di questo cammino, fino anche al Friuli, da una parte. Dall'altra parte addirittura fino a Messina, quindi un cammino che intende unire e ha già unito, diciamo, il centro santuariale di Padova con tutto praticamente il resto dell'Italia. Allora a Gemona c'è una peculiarità, c'è un insediamento dei frati minori che è accertato già precocemente attorno al terzo decennio, terzo quarto decennio del secolo XIII e c'è la tradizione che questo convento fosse stato, diciamo, fondato da Antonio di Padova. Tradizione confortata anche dal fatto che è uno dei pochissimi insediamenti minoritici, anzi forse l'unico, che fin dall'inizio viene dedicato a Sant'Antonio e non risulta dagli studi che il Sant'Antonio sia diverso da quello padovano perché nonostante tutti i tentativi di verificare che non esista una dedicazione precedente a Sant'Antonio e Remita, diciamo, ad altri Antoni, non c'è alcuna evidenza che questo sia avvenuto. Per cui c'è l'idea che appunto già nel 200, la constatazione che già nel 200, questo convento, questa chiesa e il convento fossero dedicati a Antonio di Padova. Per cui, diciamo, è un indizio che in qualche misura confortava anche la tradizione della presenza Antoniana a Gemona e da qui è nato anche lo spunto, diciamo, per approfondire storicamente il discorso. E quindi una serie di indagini di tipo storico rivolte a focalizzare sostanzialmente la figura di Antonio nella sua conoscenza bibliografica e storica che è stata affidata al padre Luciano Bertazzo. Un approfondimento che io stesso ho curato sulle presenze dei frati minori in Friuli nel 200 e questo insomma anche è legato a ricerche che avevo fatto in precedenza, un contributo invece sulle strade medievali, sulle principali vie di comunicazione medievali in Friuli e in relazione con gli spazi dell'Europa centro-settentrionale e dell'Europa orientale da una parte e con il Veneto dall'altra, affidata a un altro studiolo, a Riccardo Ceccovini. Ecco, questi sono i tre saggi, diciamo, le tre ricerche, perché poi si è trattato anche di ricerca effettiva, che compongono questo libro che non è corposissimo, ma a mio avviso segna, diciamo, positivamente un progresso nelle conoscenze che si hanno sulle presenze dei frati in Friuli, sui movimenti anche possibili, qui non sono accertati da una documentazione ineccepibile, ma possibili di Antonio anche nel Friuli, nel periodo in cui era provinciale, diciamo così, di quella provincia che ancora era embrionale dei frati nell'Italia settentrionale, per il ruolo suo di responsabilità di governo e di presenza, insomma, nelle varie località dove i frati stavano, ma anche, diciamo, la sottolineatura dell'importanza delle strade per un ordine che, come quello dei frati minori, faceva della mobilità uno degli elementi costitutivi della propria essenza, della propria, chiamiamola identità, anche se è brutto usare questa parola per un'istituzione come quella dei frati minori, che in quel momento stava definendosi in maniera abbastanza problematica e faticosa. Ecco, queste, diciamo, prospettive di ricerca hanno, insomma, se non dato delle certezze, diciamo, sulle tradizioni, hanno comunque sottolineato come anche il Friuli, che apparentemente è sempre una zona in ritardo su tutti i fenomeni storici che hanno contraddistinto le principali, diciamo, città dell'Italia centro-stituzionale, in realtà in ritardo non è e non è nemmeno così poi diverso rispetto, tra virgolette, alla norma. Ecco, anche in Friuli sussistono elementi di urbanizzazione, questo lo si sapeva, anche in Friuli sussistono dei movimenti, come dire, anche religiosi, consoni, con la sensibilità diffusa soprattutto negli ambienti cittadini. Anche in Friuli, appunto, c'è questo reticolo di strade molto vivace che connota una mobilità di uomini, di idee, di persone, anche di, se vogliamo, di idee eterodosse, perché poi a Gemona all'inizio del 200 è attestata la presenza di eretici, non perseguitati come altrove, ma comunque presenti, diciamo, che colloca questa regione che è marginale ai limiti dell'Italia, diciamo, in un contesto culturale condiviso. E tutti questi aspetti, insomma, che sembrano loro stessi marginali rispetto ai più grandi interessi di tipo economico della mediavistica o sociale della mediavistica attuale, diciamo, contribuiscono a dare un quadro, diciamo, vivace del Friuli stesso. E, come dire, è inserirlo anche in discorsi strutturati storiograficamente e notti, diciamo, da un punto di vista della ricerca più avvertita, più avanzata. Ecco, quello che mi sembrava interessante anche sottolineare è che, appunto, l'occasione, cioè il fatto che un'amministrazione comunale abbia richiesto, diciamo così, all'università, agli storici, di dare il proprio contributo di conoscenza è stata non una committenza, diciamo così, invasiva o una committenza che ha forzato la mano verso conclusioni predeterminate, ma una vera e positiva occasione di confronto fra la contemporaneità e l'indagine sul passato. Ecco, per cui, diciamo, che è l'occasione di voler creare al giorno d'oggi un cammino o agganciarsi all'idea di un cammino in questo contesto in cui vengono a oggi valorizzati concetti come quello della mobilità lenta, dell'elogio, insomma, di uno stile di vita non affannato come quello che siamo costretti spesso a vivere quotidianamente per recuperare una dimensione diversa, sia del tempo, sia del valore delle cose, ma anche una riflessione, come dire, più approfondita di quello che può essere il rapporto con la società, con la natura, con la spiritualità, insomma, tutto questo che è spinto poi anche dalle sue belle ragioni economiche, perché sugli itinerari dei cammini si sviluppano delle forme di turismo diffuso, insomma, legato ai servizi, legato alla recezione dei turisti, legato, insomma, anche alla valorizzazione nei certi aspetti culturali, dicevo, tutto questo trae linfa e sostegno dal contributo sempre modesto che possono dare gli storici alla ricerca di che cosa? Di un briciolo di verità, in realtà, non ci hanno detto, quando ci hanno interpellato dal comune di Gembona, dovete certificare la verità della leggenda, fate il vostro lavoro nel modo più sereno possibile, ma, ripeto, a una verità assoluta non siamo arrivati, ma abbiamo dimostrato che la possibilità di di questa presenza sussiste, che ci sono degli indizi che possono in larga misura essere accolti come favorevoli per confermare anche e modificare poi sui dati della realtà la leggenda e dare un tono, diciamo, di sostanza storica anche a quello che oggi si vuole promuovere sotto profilo, chiamiamolo anche francamente turistico, un turismo, se vogliamo, culturale, ma comunque turismo, turismo, ecco. Poi questo libro è stato segnato dalle vicende comuni che hanno segnato sia la ricerca sia la comunicazione in questo anno e mezzo appena trascorso, in questi due anni appena trascorsi e quindi diciamo che ha trovato luce in un momento non favorevolissimo né per la comunicazione né scritta e nemmeno per quella, per le manifestazioni, nemmeno per la mobilità, insomma, anche se, come dire, lenta come quella del turismo, appunto fatto sui cammini, però è un libro che dovrebbe rimanere, che si auspica di rimanere, quindi potrà essere fruito anche nel passato. Questa è una sua dimensione, poi c'è l'altra dimensione, quella appunto dell'inserimento nel colloquio con gli specialisti, quindi più propriamente, se vogliamo, storiografica, che si esprime anche in questa collocazione editoriale, cioè quella del Centro Studi Antonian, che è una collocazione editoriale di riferimento per quanto riguarda gli studi storici, teologici, artistici su Antonio di Padova e sul francescanesimo o sul minoritismo, insomma, particolarmente dell'Italia estensionale, ma non solo, diciamo, e che dà conforto anche, come dire, editoriale a una ricerca che ha voluto porsi e ha potuto porsi anche su un piano di serietà scientifica il più possibile inappuntabile, poi gli errori li fanno tutti quanti e le discussioni possono essere avviate sui vari aspetti. Ecco, comunque, mi faceva piacere rimarcare le persone, i nomi delle persone che oltre a me hanno collaborato a questa iniziativa, quella di Luciano Bertazzo, che è uno specialista affermato degli studi su Antonio di Padova e anche direttore del Centro Studi Antoniano, ma anche di Riccardo Ceccovini che, diciamo, non è strutturato all'interno del mondo accademico, che è, come tanti, un insegnante, un dottorato, uno che ha frequentato e maturato un dottorato di ricerca all'Università di Udine Trieste e che è, appunto, specialista proprio sulle vie di comunicazione medievali, alto e basso medievali di questa zona dell'Italia orientale. Diciamo che i contributi sono scritti anche in un modo che, a mio avviso, è abbastanza facilmente legibile, quindi protegge, diciamo così, dalla noia e della pesantezza che spesso alcuni scritti storiografici hanno e il libro nel suo complesso ha tutti, pur nella sua dimensione ridotta, ha tutti gli apparati che ne fanno uno strumento efficace di comunicazione scientifica, dei vari indici dei nomi, insomma, ha una, per quanto modesta numericamente, ma utile documentazione, diciamo, iconografica, alcune carte che servono d'ausilio per seguire soprattutto i tracciati delle strade, insomma, a me sembra che sia un'operetta valida per il progresso della conoscenza storica e per anche, per dire così, dare un senso alle cose che attualmente possono essere pensate e fatte. Non so se ha qualche domanda. Sì, ne ho una. Lei è aggiornato sugli sviluppi che può avere il cammino, esiste un progetto, come pensano di svilupparlo? Sì, sì, il cammino di fatto esiste già e il libro è stato presentato in giugno, all'inizio di giugno a Gemona, unitamente all'inaugurazione del cammino. Quindi le tappe sono state delineate, c'è un sito di cui ovviamente l'indirizzo a memoria, non ricordo, ma è l'associazione Cammino di Sant'Antonio che ha un suo sito ed ha poi anche l'itinerario. Lì si possono facilmente scaricare i vari segmenti, le tappe del percorso, quindi da Gemona a Padova ormai il percorso è stato tracciato, è stato tracciato e prediligendo una delle possibili alternative che c'erano, cioè seguendo la via alta, diciamo, pedemontana, che apparentemente è più lunga, ma bisogna sempre fare i conti con il modo di viaggiare, che non era il nostro, ma quello dei viaggiatori medievali che prediligevano la strada più sicura piuttosto che quella più veloce, insomma, perché appunto e dopo, insomma, tenendo conto anche delle varie incombenze che potevano incontrare lungo il cammino, diciamo, lungo la strada, ecco, dicevo che il cammino, diciamo, l'itinerario, il tracciato prescelto è quello che da Gemona si diregge alla base, insomma, delle prealpi friulane fino a Sacile, da Sacile poi verso Conegliano e poi verso Padova. L'alternativa era quella di seguire l'asse del tagliamento e di arrivare alla Porto Guaro e da lì, diciamo, verso Venezia e poi da Venezia risalire verso Padova. È un'alternativa che è percorsa dalla Romea Strata e quindi, ecco, c'è questo da segnalare, che il cammino di Sant'Antonio non è che si pone in alternativa o in conflitto con altri cammini che esistono, come c'è un cammino regionale friulana che si chiama Cammino di San Cristoforo che segue più o meno l'itinerario pedemontano e segue le attestazioni statuarie o anche iconografiche della figura di San Cristoforo che veniva appunto dipinto spesso sulle facciate delle chiese in Friuli, ma anche altro, insomma, e Gemona ha una bellissima statua sulla facciata dell'uomo che raffigura appunto Cristoforo, trecentesca questa scultura e quindi anche da questo punto di vista è un capolinea, diciamo, di questo cammino. Ma anche il cammino più di dimensione europea della Romea Strata, diciamo, segue per alcune tappe, per le prime tappe il itinerario che da Gemona si dirige verso il tagliamento e dopo piega verso il sud, quello della Romea Strata, appunto verso la laguna in direzione di Venezia. Ma noi, come ripeto, se possiamo avere la certezza abbastanza relativamente soda che Antonio abbia percorso le strade di Friuli e magari sia anche capitato a Gemona che era sul proprio itinerario quasi obbligato per arrivare verso il nord, insomma, quindi dirigersi verso quella che noi chiamiamo Austria o anche Slovenia per certi aspetti. Oggi, dicevo, se noi abbiamo questa verosimile sicurezza che Antonio ci sia stato, non sappiamo però se abbia percorso la pedemontana, abbia percorso l'asse più veloce sul lungo tagliamento, quindi non escludiamo nulla. Abbiamo prediletto una ipotesi sulle altre, anche perché sull'ipotere, diciamo, pedemontana c'è un insediamento duecentesco già dei fratti oltre a quello di Gemona che è quello di Polcenigo e per cui, insomma, è evidente che i fratti presidiavano con venti. Polcenigo non è una città, è un piccolo insediamento, vabbè, c'era anche un castello importante, ma è soprattutto un insediamento su una strada, per cui i minori avevano scelto quel luogo per, come evidentemente, tappa sui loro itinerari. Ecco, no? Per cui questa ragione ci ha spinto un po' a prediligere un aspetto rispetto sull'altro, ma, ripeto, non c'è alternativa, non c'è conflitto e comunque l'itinerario è già percorribile, si può, anzi, è stato anche, sono stati realizzati sempre con il nostro aiuto, con l'aiuto degli storici, alcuni cartelli di tappa, alcune segnaletiche che possono aiutare, in questo caso, anche con una breve riflessione biografica sull'esperienza di Antonio, almeno quella tratta dalla più antica geografia, cioè la leggenda assidua, e alcuni, insomma, tratti di pensiero può aiutare, diciamo, chi cammina, se vuole, anche a una riflessione spirituale un po' più approfondita, insomma. Ecco, da questo punto di vista abbiamo cercato di unire, sì, il turismo che si interessa ai prodotti tipici, ma anche a una figura storica, ma importante anche sotto l'aspetto della spiritualità che, diciamo, va oltre un po' il tempo e arriva fino a noi secondo le sensibilità di ciascuno. È interessante sicuramente per chi viene da quelle parti intraprendere questo percorso tenendo in mano il libro di cui io vorrei ricordare il titolo in modo tale che se lo imprima bene nella mente che è Come frati minori vanno per via. Antonio di Padoa Sì. Antonio di Padoa e i frati minori e le strade nel friulio medievale ci tenevo anche ad osservare che nell'anno di Dante non poteva mancare la citazione dantesca come Frati minori vanno per via appunto perché ci è sembrato così di recuperare anche questa piccola dimensione centenaria in questo anno zeppo di celebrazioni dantesca. Ecco, fra l'altro un volumetto di 83 pagine che costa 20 euro e che credo possa valere sicuramente la spesa magari sul finire dell'estate l'invito è quello di intraprendere il percorso, questo viaggio appunto con questa documentazione questa ricerca e questo studio e per questo io ringrazio tantissimo il professor Andrea Tilatti che ce lo ha presentato che ne è il curatore e vi invito a seguire come sempre il nostro sito che è www.italiamedievale.org dove troverete oltre a questa videopresentazione anche tutte quelle realizzate in questo ormai lunghissimo anno e mezzo e più di pandemia che ci ha praticamente costretto a sospendere tutte le attività in presenza non sappiamo ancora adesso se riusciremo a ripartire quest'autunno quindi ovviamente con tutti i limiti che hanno queste presentazioni in video rispetto a quelle col calore di un pubblico con le domande di un pubblico ma meglio così che niente questa è un po' la filosofia quindi grazie ancora professore grazie a lei e alla prossima se ci saranno novità ci tenga informato molto volentieri grazie grazie molte grazie a tutti